Che poeta Germi Tights Si riparte, asso check prima mano della serie Non mi vogliono sbattere fuori da questo torneo No, qualcosa di peggio Allora, facciamo un'aperturina 3.2000, farei 2.250 Come prima coi 6 Abbiamo un call, prendiamo asso Blocheriamo pure le outs per scala E passa, grazie a Dio Ok, torniamo a 45.000 Setti che muo i bui sono talmente alti Che i soldi si fanno Anche solo con una mano Madonna, 6.200 Quanti ne pagano, fa un po' vedem Questo corto continua a non shovare Ma fa con le barre Qua arrivano shov di still, io ve lo dico È proprio dietro l'angolo quello che pusha Ce la faccio a settare? Mai Mai, o mai una volta che ho visto casca un 3 oggi Quando c'avevo i 3 Check, check Check, check pure io Me è fisso Fisso, fisso Questo ha preso una donna O addirittura un cappa storta Tocca passarla Check È un asso, l'abbiamo preso Io qui la farei sempre Borpeirato, giusto un 6 Mi terrorizza Piccolo, grande Chiamano da e mezzo al mare Col Col 6 Ma andava sopra però Però che cerca se non c'ha quello E qui andrei sopra È l'unico modo per farlo foldare Secondo me c'ha un asso X come il mio Bisogna capire quanto ce l'ha storto Ma che hai preso? Jack al river e te senti buono Sta giocata non la sto capendo Allora, porco Dio Flop fa call Turn check check, river all in? Perché? Io c'ho paura che questo ci alzai veramente E me sta cucinà E ce lo può pure avere Anche in asso No, asso bello avrebbe aperto Però io non batto un passo Ma Troppo paura che questo c'ha un 6 E asso cappa Che palle oh Che palle Tanto che cazzo c'ha Cioè l'unica giocata che c'ha senso È quella secondo me Il 6 Anche se io non l'avrei giocato così Beh oddio il flop è perché Ma deve andare sopra Si sente buono Il 4 check Ci può anche stare Qua se vedo un altro call io pusho Potto è 4.350 Secondo me si può pusciare uguale Ci servono soldi Andiamo Eh sì Passa anche lui Torniamoci 37 Che palle Purtroppo Vedi non apri Purtroppo Ora gioca il lol con l'epsy Boh Allora qui potremmo Pushare di still Perché c'è super tizzi Che è short Mi fa paura solo capo Con il quale comunque Ho full d'equity Dai Ho un push Per committare super tizzi Please Che è scarico Ok Un altro buio importante Ritorniamo a 40k Eh la scelta Un po' più tranquilla Allora I 9 da qua Potrei fare anche Madonna L'apertura Cominciano a farsi sentire Farei 2.950 Tagliamo il mare in mezzo Vediamo un po' Full runner runner Boh sarebbe assurdo Poteva anche avere un caso 6 È vero Asso storto È vero Asso 6 Deve avere due chiappe grosse Come una casa Però L'ho visto succedere Uriele c'è il delay È per quello che la chatta È in ritardo Non è che è in ritardo In realtà Vediamo Franco Fra Che mi chiama Su Asso 4.7 Io ci betto spesso Ti farei un 5.150 Poco connesso il board Infatti ci passa Va bene Abbiamo un call di Franco Facciamo un check Check 5.2 Lui è cutoff Vediamo che dice Check dietro Un 5 che per il board E qui la farei 2.950 Vediamo se cerca picche No Tutto nostro E va bene 44.000 Everage 53 Dio bestia All in E qui Le gioco così Perché vi dico Pot preflop Veramente gigante C'ho full deck Qui dico entrambi Vediamo coda Questo chiama largo Passano tutti 9.000 facili facili E torniamo quasi In Everage Fortuna per questi polli Strano Oddio Assodama suited Oddio Assodama suited Oh madonna Questa proprio Non la volevo vedere Ma io se ne rimango qua Apre il tg Poi 6.000 Manco corta Che devo fare Potrei trippettarlo Ma se mi schianto Contro a k Faccio un call E vedo il flop Colla pure lui E il flop Lo devo vedere E non è mai il mio Questo c'ha coppia Secondo me Il buon capo O coppia O k No E niente Non si hitta Non vorrei Che Claudiozzo Passa Dai Vieni un po' Sii tenero con me Capo ti prego Ti ho pure passato Prima Non prendo Assolutamente Nulla Vediamo se ce la fa lui Che ha preso un 7 Da pibote Ora ha preso un 7 Un 4 Sta pensando Se bettarmi o no Qui riandrei in check Eh questo è il range suo Fold È il range suo Non range Non so Questo apre Si può fare set mining Invece che pushargli direttamente Vediamo quanti call Se ci so più di due call Pusho E call Perdo equiti Ma il flop Non lo posso Non vedere Con ste carte qua Bella Daniele Madonna Due persone agli etm Te sta a vedere Se devo boostare Proprio sta mano Sarebbe bello Guarda che escono Nel momento In cui Scende il flop Così se devo andare rotto Almeno intanto Finalmente ti vedo in live Oh Donazione da Anonymous Grazie bro Per la donation Non saprevo mai chi sei Ma è comunque un piacere Eh K68 Ma te con K Non so se qui facevi 4000 Io provo a andargli sopra Farei un 10 K Questo Con K Secondo me Sbarellava Molto di più Di 4000 Oh Mo mi check pure Check E c'è tutto Tranne quello che volevo io Vai in check Però scusa eh Io la faccio Il L'ho Reso il flop Chiamo Quindi niente Non può avere Non può non avere niente Il problema è che Cioè io qua non batto nessuna Di ste carte F*** E niente Eh con queste ragazzi A meno che non c'è un push Prima di noi Si manda Giro tra i locali Mh Allacciate le cinture Allacciate le cinture ragazzi Siamo in decollo Verso Amsterdam Schiphol Con K Dama Da Cut off L'aereo da Fiumicino In decollo Sono previste Turbolense E l'all in È andato Vediamo un po' E chiama questo Confio nero Ma era proprio quello Che non volevo chiamarsi Asso K Questo Fisso Eh si Asso K Fisso No un flip Un bilateral pure K Tiene Double up Si Si Dai ragazzi C'è C'avrò meno di 15 bui Credo Anche dovesse push a Franco No Franco chiama e basta Allora proprio te le vai a cercare Asso Dama Sciovino Facilino Colla lui Addirittura I6 Flip Dama Su Su cazzo Su cazzo Dai di double up Dai di 90k Che risaliamo sopra Everage Dai cazzo Io mazzardo Guarda Mazzardo apri una mano Non sto aprendo da mezz'ora Colla Madonna sto capo comunque è una rogna Sto capo è una bella rogna E io qua Te la farei Madonna è sempre scala Block e roll out Per un'ipotetica scala Appunto Nassolo posso rappresentare spesso Diciamo che qui mi deve credere Perché se non ci crede Che c'ho Mi crede Grazie Gesù Dai 97k Si Eh vedete qua basta un piatto così Che cosa ho visto Ah k check Posizione abbastanza brutta Abbiamo Io farei come prima Ah non posso poi mi sa perché i bui Sono 4.000 Quindi devo fare 9.500 Vediamo un po' se veniamo trastati Ah Claudizzo tra l'altro l'indagrande buio Ha il buio Mi lasciano da solo Tutto mio Bello Questo proprio shippato gratis Meglio di così Non si può chiedere Un call Questo sicuro Mi fa venire ancora più voglia di pushare Se passa anche franco si sciova Arco dio Eh questo non sciova quasi mai Vuoto Prima l'ho visto Pusciato una coppietta Troppo rischioso C'ha 65k Non posso permettermelo Cioè potrei Ma perde un colpo del genere Ho perso il torneo Si Dani È sempre lo stesso torneo Grazie CRD per i due mesi Bro è un piacere continuare ad averti con noi Nella nostra famiglia di puccaristi Allora Vediamo un po' Clean 46 Oddio 66.000 Se mando non c'ho manco fold equity Con capo Mi chiama con tutto Grazie tesoro Almeno te che me lo dici Eh potrei pushare Ma è talmente scontato Che mi chiamerebbe Vediamo se riempio 7 l'ho preso Ma qui è un rischio Abbastanza grosso Bettare con tutti Sti quadri Ah 5.000 Mi pare tanto di rappresentanza Però fold Come la miglioro Stamano Non c'ho cuori dietro Qui ripusciamo sopra Bella per il chip leader Vediamo un po' Vabbè la può fare anche per bull al tavolo Chiama sempre S5 donna 10 Prendiamo un 10 Sì Double up Dai dai che siamo a 112k Non ci basta Ce ne dovrebbe Cioè ce ne servirebbe un'altra Ce ne servirebbe un'altra Di double up Però non ci lamentiamo Dai Ah sì Io qui farei addirittura Un limp Vi dirò Vediamo un po' Se qualcuno puscia Che è quello che spero Che si fa ingolosire dal piatto Beh nessuno mo puscia Non ci credo Dai c'è un pot da 27.000 Fold Mister nun Colla Andiamo in check Settare tantissimo Occultis la fa Gli scioviamo sopra Qui non lo porterai troppo a spasso Perché il board è un po' connesso Colla con dama 5 Vedi c'ha 4 quinti di colore E mi reggono gli assi Super double up Questa bellissima Questa è bellissima Regà Questa è bellissima Regà Questa è stata veramente bella Mo siamo 31esimi Su 129 Keep calm e sangue freddo Regà